Ma perché? Perché è diventato così stringendo i cavalli a chi? Ti capisci Ciccio? Ciri! Ha detto che gli si è stretto la testa col freddo e gli viene giù il casco davanti sugli occhi Mettici un po' di posti Sì la galleria ancora Siamo in piano, andiamo a finire la galleria Bravo, bravo Ma non dalle gallerie, prima Quel discesun che fa in discesa Bravo Il discesun in discesa, da fare in salida Ma torniamo da dove siamo saliti